Ja? Io ho un marito che è sempre a viaggiare, che arriva fa pochissimo di tempo qua, perciò io mo' stare tutto, ja? Oh, quando lui viene, soltanto resta un metà di settimana in Monaco, qui noi mangiare. Di dove lei viene? Ehm, da Roma. A Roma, pensa quanto contento di questo Vittorio, mio marito anche italiano, siciliano. Non so se forse lei anche sa com'è il vero uomo siciliano, lei non conosce un uomo di Sicilia? Ah, cioè, no, credevo di conoscerlo. Morto forse? No, non ancora. Ma noi ora deve sistemare camera e rifare il letto anche. Ah sì, il letto è molto importante. Io va di là andando. Torna, te le do io, le moglie a mezzo servizio. La colazione la facciamo dopo. Oh, già qua, io fa un doccia e subito torna. Un attimo che sarà per me un'eternità. Strano, per un momento mi era sembrato... Lei è moglie di lui sposata? Altro che in chiesa e in municipio. Via Fausta 27 voi abita. Ma come mai? Allora lei lo sapeva. Sa di sua famiglia che è molto ospitale, io. Non prende in giro la mia famiglia, sa? Io dice quello che lui dice. Che poi è anche la famiglia sua. Vassa. Perché è la famiglia di suo marito. Famiglia tanto me l'ha tagliata. Ma chi gliel'ha detto? Tu ti stai con morbilla. Ma quale morbillo? Ma pensi quanto ci ha preso in giro? Io, non lei. Lei non creduto tanto a lui. Sta qua. Sì, sì. Sta tutto. Pensi, mi ha fatto credere che qui a Monaco abitava presso la casa del ferrocino. Come a Roma. Ma io l'ammazzo. No, prima l'ammazzo io. Sta a me, l'ho detto prima. Questa poi. Adesso noi fare. Dunque a Roma, Monaco. Monaco? Teresa? No. Eh no. Teresa è a Roma. Roma? Roma è a Monaco. No. Monaco. Teresa è a Monaco. No. Sì, sì. Vittorio? Sì? Senti un po'? Sì. Sto sentendo. Mi prendi i sali da bagno che stai in camera da letto? Sì, sì. Sali da bagno per la mogliettina mia. Sai dove sono i sali da bagno? Ecco qua. Oh, grazie amore. Ecco i sali da bagno per la signora. Grazie tesoro, faccio subito, sa? Sì. 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 Vittorio? Eccolo. Tu sa qua? Tu scordato di sali di bagno? I sali da bagno te li ho dati, no? No. No. No? Se tu non vuole prendere vai io in stanza. No, è che mi pareva... Ma quando è stato? I sali... Oh, ma guarda. I sali da bagno. Ma se te li hai dati un momento fa. Eh, già. me li hai dati un momento fa. Però... Monaco-Roma? Roma-Teresa? Teresa-Monaco? Perindri si cambia! Dov'è sua moglie? Chi è sua moglie? Ce l'ha una moglie? Non ha una moglie? Ma si ha due mogli. Lei che fa... Vive qui o vive là? Ci pensi un po'. Non lo sa? Dove va? Lei ha due moglie. Metà e metà. Vive due vite. Metà e metà. Si soffia e si sperde. Non prende e non dà. Imbattirà! Vivitorio. Bell'idea che ha avuto. Me l'ha fatto scappare, poveraccio. Meglio che scappa, lei non vuole più ammazzare? Beh, io di mio marito posso far quello che voglio. Cosa intende che fa quello che vuole? Niente le fa mio marito, neanche tocca. Come? Scherza o c'è prova? Semmai sarebbe anche suo marito. Un cavolo sarebbe Vittorio e mio marito. No, tanto quello che vale un matrimonio solo. Giusti, eh? E lei ci dirà quale dei due. E lei... Grazie a tutti.